Radio Evangelo Buonseme presenta Biblia, incontri letterari evangelici a cura di Adi Media Teatro Rex di Giarre, 9 e 10 marzo 2019 Buonasera e ben ritrovati su Radio Evangelo Buonseme Benvenuti, rivolgo il mio benvenuto a quanti ci stanno seguendo attraverso le frequenze di Radio Evangelo Buonseme rivolgo il mio benvenuto a quanti questa sera si trovano presso il Teatro Rex di Giarre insieme a noi per trascorrere circa 60 minuti del nostro tempo riflettendo sulla parola di Dio e riflettendo sull'opera che Dio vuole fare nella nostra vita siamo grati al Signore che nonostante qualche problema e difficoltà tecnica siamo nuovamente insieme Radio Evangelo diverse volte ha proposto e continua a proporre degli incontri che abbiano un duplice scopo quello di raccontare l'opera di Dio, parlare del Vangelo e quello di continuare a condividere con gli altri il messaggio semplice e genuino del Vangelo affinché ogni uomo possa vivere così come Dio vuole gli incontri che sono programmati per questo fine settimana sono tanti e noi siamo grati al Signore per questo intanto rivolgo ancora una volta il mio benvenuto vi ricordo chi sono, sono Gianluca, la mia voce è probabilmente conosciuta a quanti ci ascoltano e conosciuta anche a molti di voi che siete al Teatro Rex insieme a noi con me stasera c'è Naomi e il pastore Giorgio Botturi Un saluto affettuoso vi giunge anche da parte mia stasera avremo l'occasione di trascorrere quest'ora insieme per trattare un nuovo argomento alla luce della parola di Dio stasera con la collaborazione del pastore Giorgio Botturi tratteremo un argomento anche coadiuvati dalla lettura di un libro fratello Botturi vuoi dare tu il tuo saluto ai nostri cari amici e ascoltatori? certamente, grazie, grazie per questo invito ringrazio le autorità locali, la direzione del teatro ma ringrazio Radio Evangelo Bonseme che ci ospita per questa iniziativa di carattere biblico-culturale e che ci chiama a presentare dei titoli diversi uno dall'altro riguardo a diverse tematiche, a libri differenti e io ringrazio per questo prezioso invito e ringrazio voi tutti che siete qui presenti Biblia, sono degli incontri letterari e evangelici adesso il pastore Botturi ce ne parlerà magari un attimino più nel dettaglio intanto noi vi ricordiamo che questi incontri si stanno tenendo presso il teatro Rex di Giarre quindi se siete all'ascolto e volete partecipare qui con noi di presenza potete farlo saremo qui questa sera per questo incontro che tratterà il tema della depressione parleremo di un libro edito da Adimedia fuori dalla depressione poi domani sera saremo nuovamente insieme alle 17.30 parlando di un altro argomento ancora parleremo di grazia, presenteremo un altro libro e parleremo di come la grazia può riscattare le ferite del passato partiamo dunque, prego Nomi ricordiamo i nostri amici radioascoltatori che sono in onda anche le dirette video sulle nostre pagine Facebook Radio Evangelo Buonseme e la pagina se non sbaglio anche di Adimedia sta trasmettendo in diretta proprio questo evento e vi ricordiamo che se volete potete scriverci anche al nostro numero 393 77 90 132 prima o poi se avete fede risponderemo ai vostri messaggi non subito ma risponderemo, promettiamo Adimedia ha citato Adimedia intanto perdonami fratello Botturi giusto una presentazione un po' più formale in nostra compagnia è il pastore Giorgio Botturi lui è pastore delle chiese cristiane evangeliche delle assemblee di Unitalia di Roma, Rione, Torrevecchia Roma, Rione, Giannico Renze è il responsabile di Adimedia il servizio delle pubblicazioni delle assemblee di Unitalia ha svolto tante attività nella nostra opera per noi è un grande piacere è insegnante dell'istituto biblico italiano per noi è un grande piacere stasera averlo insieme a noi prego Sì, sì, dicevo Gianluca, Adimedia è il servizio pubblicazioni delle nostre chiese assemblee di Dio in Italia siamo operativi da 35 anni abbiamo prodotto tanti titoli ma abbiamo iniziato il nostro lavoro in quelle che noi chiamiamo scuole della domenica scuole domenicali poi abbiamo aggiunto i primi titoli di libri di famosi predicatori scrittori classici evangelici e poi abbiamo iniziato a toccare delle tematiche tra le più diverse abbiamo scoperto però una cosa l'importanza di girare di visitare le nostre chiese e non solo librerie, biblioteche per sottolineare l'importanza non soltanto del libro in se stesso ma l'importanza ovviamente che ci siano dei lettori cioè persone che leggano i vari libri che produciamo dicevo da 35 anni il Signore mi onora di svolgere questo compito questo servizio da svariato tempo per l'appunto e ringraziamo il Signore perché ci ha portati fino qui in termini temporali ma anche più che mai oggi in questo luogo così accogliente in mezzo a voi fratelli, sorelle ed amici Biblia di questo nome di questi incontri letterari evangelici si sente parlare su Radio Evangelio da qualche settimana con i nostri spot i nostri annunci i nostri stralci di libri letti ci spieghi cosa sono questi incontri letterari perché nascono e cosa avete fatto in questo anno credo noi abbiamo abbiamo capito la necessità l'importanza di incoraggiare la cultura del libro della lettura questa è la prima cosa noi viviamo in una società a dir poco frenetica dove non c'è tempo di fare nulla men che meno di trovare dello spazio per leggere dei libri ma abbiamo scoperto invece quanto sia importante sottolineare la validità la centralità del libro in se stesso ma della lettura della cultura della lettura dobbiamo riscoprire il valore l'importanza di dedicare del tempo a leggere questo uno significa mettere in moto la nostra intelligenza la nostra logica il ragionamento il pensiero in generale per vederlo applicato nella nostra vita biblia è concepito proprio per questo e da un anno stiamo girando ho fatto cenno noi siamo appena venuti da Torino dove abbiamo fatto un incontro analogo a questo siamo diretti poi altrove abbiamo iniziato a girare tra le biblioteche pubbliche di Roma per presentare nella fattispecie questa missione questo servizio biblia che significa libri libri in plurale oggi ero a Taormina e ho avuto il piacere di entrare in un edificio antico dove c'erano tanti bei libri antichissimi e su uno di questi campeggiava la parola biblia era una bibbia commentata scritta nel 1542 e biblia significa i libri in plurale al plurale perché raccoglie diversi libri la bibbia è composta da 66 libri messi insieme per formare un unico libro noi ovviamente vogliamo favorire incoraggiare la lettura di libri che definiamo bibliocentrici perché incoraggiano non soltanto la lettura di quello specifico testo ma che poi portano il lettore a leggere il libro dei libri e cioè la bibbia la parola di dio questo incontro infatti nasce proprio per poter stimolare chi ci sta ascoltando chi è qui presente proprio ad avvicinarsi di più alla lettura della bibbia noi ricordiamo che quanto gli sono in ascolto quanti sono presenti qui in sala se non sono in possesso di una copia della parola di dio della bibbia ne avranno una copia in maniera gratuita e il nostro obiettivo e quell'obiettivo di radio evangelo buonsema appunto è diffondere non una religione ma il messaggio dell'evangelo e questo è quello che è l'obiettivo anche che da tanti anni porta avanti a di media pastore botturi ci addentriamo un po' in questo viaggio questa parola la ritroveremo più volte questa sera proprio il libro parla di un viaggio e magari ci dai una panoramica di come è strutturato questo libro allora innanzitutto credo che dobbiamo rilevare l'importanza dell'autore l'autore che non è un tecnico nel senso stretto della materia anche se è uno psicologo non è un pastore perché uno potrebbe dire bene allora tutte le considerazioni sono tratte dal punto di vista teologico quindi è un pastore che lo espone ma è una persona che comunque ha i titoli è un master in teologia è dottorato in filosofia è uno psicologo lavora da trent'anni come psicologo e consulente di quella che si chiama Christian Counseling Educational Foundation cioè la fondazione per l'educazione e la consulenza cristiana che è un'associazione no profit di ispirazione evangelica che fornisce aiuto a quanti affrontano problematiche tematiche di questo di questo genere hanno bisogno di un consiglio oltre che da chi di mestiere svolge questo questo servizio in qualità di medico di psicologo ma soprattutto da consulente cristiano cioè da chi prende per mano la persona con la quale sta affrontando questa tematica questa problematica per portarla alla parola di Dio e lo stesso autore ha pubblicato un altro libro molto molto interessante fuga dalla paura che al pari di fuori dalla depressione diciamo che il soggetto il tema è sempre quello di uscire fuori da certe situazioni uscire fuori dalla paura uscire fuori dalla depressione e l'autore addita proprio a questo il titolo dunque è fuori dalla depressione la depressione ad oggi è una parola che depressione è una parola che viene usata abusata viene utilizzata in tanti contesti molto spesso se ne parla anche nelle nostre chiese per sbagliati motivi c'è una a proposito di questo tema c'è uno stralcio della prefazione che a me ha colpito tantissimo quando l'ho letta mi sono riproposto che l'avrei letta stasera e lo faccio l'autore ci spiega gli ingredienti di base della depressione che poi altro non sono che le componenti fondamentali della vita di un essere umano di che cosa è fatta la depressione di paura vale a dire di una fiducia malposta e di un mondo e di un mondo che improvvisamente si rimpiccolisce di rabbia di risentimento anche e soprattutto nei confronti di Dio poiché le cose non sono andate come ci aspettavamo nella convinzione che gli altri a cominciare da Dio stesso sono stati ingiusti nei nostri confronti è fatta di speranza infrante mancanza di futuro frustrazione e delusione profonda queste parole di colui che ha scritto la prefazione a questo libro mi hanno colpito perché avvicinano il tema della depressione ad ognuno di noi molto spesso rischiamo di incasellare la questione depressiva soltanto in un aspetto psicopatologico che naturalmente non è minimamente nostra intenzione andare a trattare per svariati motivi perché non abbiamo le competenze e nemmeno perché è il luogo il luogo designato ma qui chi scriveva queste parole avvicina la questione della depressione ad ognuno di noi e rileggendo di speranza infrante di rabbia di risentimento di alle volte anche risentimento nei confronti di Dio ci accorgiamo che in fin dei conti la questione della depressione ha toccato almeno una volta tutti quanti noi nella vita certo 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 io sono altresì rimasto ovviamente tiro acqua al mio mulino ma insomma la prefazione in questo libro ci dà la chiave di lettura intera del testo ma soprattutto ci fa capire che la depressione un po' ce l'abbiamo tutti noi dentro in quanto esseri umani perciò non siamo degli extraterrestri viviamo delle situazioni delle condizioni della vita affrontiamo dei dolori delle prove delle difficoltà di carattere individuale personale familiare il nostro stato di salute che fatemi dire una banalità ci fa venire meno la pressione e quindi non abbiamo la forza di reazione siamo talvolta sopraffatti da circostanze da situazioni che sembra che ci soverchino e l'autore spiega che è una cosa reggetevi bene forte normalissima fa parte della natura umana decaduta e ci sono situazioni nelle quali chi in un modo chi nell'altro reagisce o viceversa non reagisce affatto e si fa sopraffarre da queste situazioni ma la chiave di lettura di questo libro dicevo prima e lo ripeto perché è importante è che ci fa capire che c'è una via d'uscita nella stessa prefazione l'autore scrive che è la reazione dell'individuo che viene colpito da questa problematica di correre di andare al Signore di venire fuori da questa situazione oppure lasciarsi andare e farsi sopraffarre da certi stati d'animo o comunque situazioni che poi diventano come una valanga che parte piccola e arriva travolgente sì al giorno d'oggi sono tantissimi gli italiani ce lo dicono le statistiche non siamo noi ad aver censito questo tipo di statistiche ma ce lo dicono le statistiche rilevate dagli organi preposti a soffrire di questo disturbo e trovare una risposta nella Bibbia nel libro più attuale perché poi è questo che il libro Fuori dalla depressione ci riporta ci fa riflettere un attimo su come possiamo porci davanti a questo argomento molto spesso ci avviciniamo a questo argomento con molto pregiudizio bene stasera un invito che voglio fare a quanti ci stanno ascoltando a quanti sono qui in sala è di lasciare ogni tipo di aspettativa che ci eravamo fatti e cominciare a vedere un po' di metterci in discussione perché sentirsi dire che la depressione fa parte di ognuno di noi suona come quasi una botta è qualcosa di molto incisivo di molto forte ma nel viaggio che affronteremo nel sul Mario se adesso tu puoi citare degli altri raguagli vedremo che c'è un perché a questa affermazione beh innanzitutto tu hai citato delle statistiche Istat che sono impressionanti a dir poco nel 2015 hanno registrato 2 milioni e 800 mila italiani che soffrono di depressione e 3 milioni e 700 mila persone che soffrono di ansia cronica grave questo non è come dicevi un attenuante per dire beh colpisce un po' tutti ma io ripeto che da una parte dobbiamo avere coscienza di questo problema perché altrimenti ci facciamo prendere sgomenti da stati d'animo ai quali tra virgolette non siamo abituati e quindi cadiamo in depressione dall'altro invece dobbiamo capire che la via di uscita c'è ora l'autore non soltanto incomincia a descrivere la problematica e usa una metafora bellissima che è quella del cammino parla di Dante parla di John Bunyan il pellegrinaggio del cristiano dove amo soffermarmi un pochettino di più perché è un libro bellissimo che John Bunyan ha scritto durante i suoi dodici anni di prigionia quindi non si è fatto sopraffarre da una circostanza dal trovarsi in gabbia e quindi incapace di fare alcunché no ha reagito a quella situazione scrivendo un libro bellissimo che raffigura il cammino di questo cristiano che incontra situazioni diverse si trova nella palude della disperazione nella valle dello sconforto ma le valli sono fatte per essere attraversate e non ci si impantana difatti la Bibbia a proposito di Biblia la Bibbia parla di questo il Salmo 84 parla del cammino di un cristiano di un credente di un pellegrino che arriva nella valle di Baaca la valle arida e deserta dove nella situazione così deserta e arida si fa prendere dalla depressione no lo trasforma quella valle la trasforma in luogo di fonti e torniamo a sottolineare questo il Salmo 23 molti di noi anche chi ci ascolta per radio probabilmente lo conosce a memoria si attraversano le valli dell'ombra della morte ma ripeto quando anche attraversassi l'ombra della morte io non sarei abbandonato in quello stato d'animo in quella difficoltà perché aggiunge il salmista tu sei con me quindi c'è qualcuno che ti può aiutare come ci ha aiutato e quello che fa a proposito del sommario del libro è che l'autore prende in esame gli stati d'animo il senso di vuoto sentirsi vuoti io non so se qualcuno di voi ha mai attraversato questa situazione questo stato d'animo sentirsi svuotati completamente spossati senza un significato viene a mancare quasi quasi il significato della vita e questo si traduce spesse volte in un dolore mentale nella paura di tutto e di tutti e in una tristezza e questo ci fa pensare alla stessa esperienza di Gesù ma poi la cosa che lo scrittore continua a fare è che cita degli esempi di persone che hanno sperimentato nomi importanti personaggi famosi che hanno sperimentato la depressione e questo tanto per ribadire è quello che abbiamo detto all'inizio cioè non siamo soli se qualcuno di noi affronta situazioni difficili deve capire che ci sono passati anche personaggi illustri quindi siamo incoraggiati tra virgolette ma lo statista inglese famoso Winston Churchill diceva che spesso lui si trovava a combattere con quello che definiva il cagnaccio nero e già il termine ci dà un'idea di quello che significa ma insieme a lui pittori come Van Gogh il presidente Abramo Lincoln lo scrittore di horror Edgar Allan Poe la famosa attrice Marilyn Monroe ma tornando in campo nostro Martin Lutero grande riformatore il principe dei predicatori Charles Spurgeon hanno attraversato momenti di depressione depressione ma poi ci sono dei nomi biblici dei grandi condottieri delle persone che nella Bibbia vediamo hanno attraversato momenti come questi cito per esempio Mosè Mosè a un certo punto della sua vita ebbe a dire sconfortato al Signore senti Signore cancellami dal tuo libro cancella il mio nome dal tuo libro il popolo di Israele si era ribellato appena uscito dall'Egitto si era costruito un idolo d'oro aveva incominciato ad adorare il vitello d'oro e a fronte di ciò Mosè disse a se stesso io non ce la farò mai a portare avanti un popolo come questo si è fatto prendere dallo sgomento e la sua soluzione fu cancellami ma poi c'è Giobbe forse il nome che più conosciamo che è veramente una persona che ha attraversato un intero libro dedicato alla sua storia di sofferenza ma alla fine è scritto che ne uscì come l'oro ne uscì saggiato impreziosito come l'oro e che dire del profeta del fuoco il profeta Elia aveva vinto un confronto strepitoso con i profeti di Baal sul monte Carmelo li aveva pubblicamente sfidati scende il fuoco dal cielo ottiene una vittoria pubblica strepitosa e a dir poco spettacolare ma poco dopo lo troviamo lo troviamo nascondersi in una grotta sgomento stanco depresso al punto di dire signore io non valgo niente non valgo più dei miei padri prenditi la mia vita Geremia era il profeta del pianto Giona un altro profeta famoso che era piuttosto irritabile scontroso ma poi Gesù stesso lo vediamo al Gezzemani che era sopraffatto da una tristezza mortale io mi immagino insomma ci viene dipinto quel momento in cui Gesù soffre in preghiera lotta invoca il padre e prega con una tale intensità che come delle grosse gocce di sangue scendevano dalla sua fronte tale era questa preghiera intensa Isaia dice a proposito di Gesù che era uomo di dolore e familiare con la sofferenza e io credo che questi nomi bastino per farci capire che ci sono momenti che noi affrontiamo che incontriamo nel cammino nel percorso della nostra vita al pari di questi nomi illustri biblici e non che ci devono portare a riflettere sulla nostra condizione ma soprattutto a reagire mi veniva in mente in relazione a ciò che stavi dicendo a quello che alle volte è un pensiero comune tra i cristiani credere che la depressione non possa mai colpire un cristiano e che quando questi stati d'animo vengono vissuti bisogna farsene una colpa beh questi racconti ci spiegano credo che ci illustrano come appunto abbiamo ampiamente detto che questi stati d'animo non sono distanti da noi possono accabitare nella nostra vita Gesù stesso è stato appunto uomo di dolore familiare con la sofferenza è lo scrittore a proposito della sofferenza di Gesù e a proposito di come questa sofferenza va a incidere sulla nostra vita scriveva così se tu pensi che Dio sia lontano e indifferente ecco la rivelazione più scioccante prima della creazione del mondo il Signore già conosceva le tue sofferenze e dichiarò che Egli stesso avrebbe preso forma umana e condiviso la nostra natura il che significa che noi a nostra volta avremmo potuto condividere la sua non è un Dio distante e indifferente se noi ci colpevolizziamo a volte a causa della depressione Dio stasera non vuole puntare il dito e questo amplifica amplifica quello che dicevo prima talvolta sono dei primi segnali che ci fanno sentire questo senso di appesantimento grazie e poi sembra quasi che la situazione ci sfugga di mano e quindi si ingrandisce i sensi di colpa quelli che descriverà più avanti lo scrittore il problema come qualcuno ha detto non è quello di cadere ma quello di non rialzarsi noi tutti possiamo cadere il problema è se rimaniamo a terra mentre invece come dice il profeta il Signore ci vuole rialzare ora c'è un balletto una ridda di ipotesi di congetture di pensieri secondo me scomposti sopra questo argomento che tu accennavi Gianluca e vale a dire il fatto che no il cristiano non può non può soffrire di depressione bene allora chi si arma di grande spiritualità e si pone sopra a pontificare potrà ben dire no è vero non può succedere allora noi vi consigliamo di leggere questo libro non vi diamo la risposta volate a questo libro la risposta perché sono cose che fanno parte della nostra natura di caduta azzoppata ora il problema è proprio questo se cadiamo se veniamo meno e rimaniamo a terra è un problema qui se vogliamo venirne fuori o se vogliamo fuggire da certe situazioni come dice l'autore in fuga dalla paura e in fuori dalla depressione è la nostra reazione che non è la nostra ma è confidare in quello che Dio può fare per venirci incontro e come dicevi tu Gianluca proprio questo Dio non è lontano dalle nostre sofferenze anzi l'ha partecipata e se l'è prese su di sé e ci vuole dare la via d'uscita a volte abbiamo l'idea di una vita di fede vissuta su un altro pianeta non sulla terra quindi poco realista in realtà se il credente è credente a 360 gradi quindi sia nella vita quotidiana sul posto di lavoro a scuola in famiglia e in tutte le altre sfere in cui si affaccia è normale tra virgolette dire che può essere colpito da tutto ciò poi la differenza la fa invece il trovare una risposta diversa una reazione come dicevi tu nel libro dei proverbio è scritto vuoi fissare lo sguardo su ciò che scompare quindi a volte noi ci fossilizziamo su quello che è il momento e poi non troviamo una chiave di volta una chiave che ci dà quell'input per poter andare avanti l'autore lo chiama il grido esatto cioè che cosa succede la depressione tende a farci piegare su noi stessi l'autore dice no dobbiamo proiettarci al di fuori di noi stessi non dobbiamo rimanere in silenzio dobbiamo invocare Dio tant'è che la scrittura dice e non voglio strumentalizzare quel versetto ma è assolutamente attinente calzante e soprattutto vero chi avrà invocato il nome del Signore sarà salvato quindi c'è la sofferenza ma noi dobbiamo gridare e c'è un conflitto il conflitto c'è perché perché quando affrontiamo questa situazione viviamo sulla nostra pelle come Giobbe meglio ancora come Gesù queste sofferenze noi non ce le teniamo dentro ma gridiamo al Signore come ha fatto Gesù sulla croce come ha fatto Gesù al Gezzemani scopriamo allo stesso tempo che c'è un conflitto dentro di noi e si innesca non voglio dare l'idea del super spirituale ma noi credenti sappiamo che cosa significhi combattimento spirituale l'avversario dell'anima nostra che usa anche questi stati d'animo che vuole combattere la sua battaglia nella nostra mente si innesca un conflitto dentro la nostra mente incomincia a suggerire delle bugie su noi stessi non sono all'altezza non sono salvato se mi sento così vuol dire che non sono salvato bugie sugli altri ah gli altri non si prendono cura di me gli altri non mi pensano proprio gli altri sono estranei al mio problema ma peggio ancora bugie su Dio ah Dio non può fare nulla per me io mi trovo in una condizione tale che il Signore non si cura di me anche se potesse e volesse farlo non ce la farebbe ma come dicevi tu Noemi la risposta c'è una risposta ed entra nel pratico vale a dire innanzitutto una cosa che noi pastori suggeriamo e non lo suggeriamo perché è mestiere ma perché è assolutamente vero è quello di rimanere attaccato al Signore quando ci troviamo in situazioni di questo genere tendenzialmente siamo portati ad isolarci come fece Elia Elia preso dallo sgomento dalla paura Izebel aveva minacciato fugge lascia per strada il suo servo si isola è la cosa peggiore da fare isolarsi dobbiamo cercare la comunione con il nostro prossimo con la fratellanza confidarci con gli altri senza vergognarci per carità non vergogniamoci io ho paura che qualcuno eviti anche incontri di questo genere per paura di farsi vedere qualcuno che pensa che è venuto in incontri di questo genere perché è depresso abbiamo detto dall'inizio della nostra riunione che noi non siamo degli psicologi siamo qui per parlarvi di libri che attengono alla parola di Dio e al Signore che ha la soluzione e per questo dobbiamo confidare nella sua parola senza mollare senza mollare quando è così ci sentiamo come dei pugili che abbiamo preso tanti di quei sganassoni che non ce la facciamo più a stare in piedi e vorremmo gettare la spugna perché non c'ho più fiato non ce la faccio a stare in piedi vengono meno anche le mie migliori intenzioni invece la parola di Dio questo libro ci incoraggia a non mollare ad esercitare la pazienza l'apostolo Paolo che ne aveva attraversate tantissime dice siate allegri nella speranza pazienti nella tribolazione e perseveranti nella preghiera c'è una bella affermazione di Davide nel Salmo 42 il salmista dice parlando con l'anima sua perché talvolta ci dobbiamo prendere di petto il salmista dice perché ti abbatti anima mia perché ti agiti in me spera in Dio io lo celebrerò ancora perché egli è il mio salvatore e il mio Dio e qui si apre uno spiraglio di luce nelle tenebre una una porta di speranza bellissimo bellissimo mi fermo un attimo Gianluca tranquillo non mollare è l'altra esortazione che che ci giunge nella perseveranza nella pazienza nella nella speranza questo libro ci riporta anche delle testimonianze di esperienze fatte di esperienze di uomini di donne a noi contemporanei dai diciamo diciamo un po' un po' così perché sicuramente raccontiamo di Elia raccontiamo di Mosè raccontiamo degli uomini del passato poi alle volte ci sembrano uomini tanto distanti da noi e nel nostro tempo questo libro ci racconta delle testimonianze non so se qualcuna in particolare la vuoi ma guarda ce ne sono così così tante no? ma le ultime pagine ma è tempestato questo libro di storia ora la cosa bella di quest'autore è che non esprime dei concetti che non presenta soltanto dei versetti biblici sgranandoli con una certa familiarità ma che dice a Rochelle è avvenuto così a Greg è accaduto questo cioè persone che da una parte hanno capito quando le cose stavano iniziando e sto citando Rochelle le cose stavano per cambiare avendo seguito le indicazioni che vi stiamo presentando che troviamo in questo libro ma poi ci sono c'è sempre questa stessa persona che dice quando certi atteggiamenti erano sbagliati non gli erano d'aiuto e come in certe situazioni sempre citando Rochelle certe strategie chiamiamole usando un termine forte ma certi consigli sono risultati davvero utili persone che sono arrivate ad un estremo e che invece hanno scoperto che proprio quando sono arrivati alla fine delle proprie risorse delle proprie speranze si sono aggrappate a Gesù e il Signore li ha tirati fuori c'è anche un altro aspetto da considerare relativamente al tema della depressione che è quella della questione medica non so se tu volevi accennare a qualcosa di cui parla anche il nostro testo perché anche qui ci sono tante idee le più disparate quindi scegli da pregiudizi abbiamo visto che in questo libro ci sono anche delle linee guida perché è vero che ci sono tantissime patologie mediche che portano a uno stato di depressione a livello anche proprio fisiologico chi ha un morbo di Parkinson chi soffre di sclerosi multipla chi soffre di tantissime altre patologie conclamate per una via quasi obbligatoria passa a questi stati depressivi e quindi bisogna intervenire in determinate maniere ma ci sono altri momenti in cui ci possono essere anche altre strade allora innanzitutto per la competenza dello scrittore non è che viene cassato in toto negata all'utilità della medicina eccetera eccetera allora noi sappiamo bene ma già Luca diceva all'inizio non siamo persone titolate per parlare scientificamente di queste problematiche però ci rifacciamo a quello che dice l'autore ma ve ne facciamo cenno perché sarebbe da leggere pagine e pagine in questo senso questo libro non è un non è un pocket conta 300 pagine quindi diciamo che il tema non era trattabile in 10 in 10 pagine indubbiamente è un tema che non si può ridurre in un pocket però in qualità di psicologo oltre che di consulente cristiano l'autore parla sì facciamo prima un buon esame clinico per capire le problematiche se derivano da altre patologie e poi attenzione all'uso dei farmaci il mercato dei farmaci è uno dei più fiorenti in Italia e nel mondo e si danno antidepressivi a piene mani pensando che la medicina in se stessa possa risolvere la cosa allora ripetiamo non lo esclude dice che l'approccio deve essere professionale anche e soprattutto in situazioni che attengono alla salute mentale di un individuo però ci fa riflettere e dice bene antidepressivi che funzione hanno che cosa mettono in moto la famosa serotonina eccetera 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 però attenzione gli antidepressivi non si possono dare come una caramella come una mentina attenzione quali sono gli effetti reali e quali sono gli effetti collaterali di una medicina di questo genere e poi dice attenzione ancora di più perché questo può creare assuefazione e dipendenza quindi questa è una cosa assolutamente delicata e le linee guida che dà torniamo invece su un argomento che c'è più vicino a noi è quello della vicinanza del consiglio del verificare con la massima serenità seppure sembra paradossale parlare di serenità e depressione ma di esaminare la situazione con professionale attenzione e muovere i passi giusti mettendo sull'alto piatto della bilancia tutte le relative controindicazioni ma non è questo la soluzione ottimale perché più avanti da altri suggerimenti che sono importanti vale a dire l'importanza della vicinanza della famiglia il ruolo della famiglia il ruolo della comunità cristiana il ruolo dell'amicizia talvolta le persone che sono avvicinate da individui disturbati a livello mentale depressi fuggono perché hanno paura di affrontare un problema che gli si para davanti e subito dicono no 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 sta cosa è più grande di me attenzione noi non dobbiamo fare nulla di straordinario se non mostrare la nostra solidarietà la nostra vicinanza il nostro affetto sincero l'attenzione l'ascolto l'ascolto e parlare con con naturalezza non dobbiamo usare né linguaggi affettati né frasi precostituite ma parlare come se parlassimo con qualcun altro mi viene in mente una parola basta esserci a 360 gradi a proposito di quello che dicevi tu e credo che ci introduca anche a quello che vuole essere il punto successivo l'autore usava un'analogia per parlare dei farmaci possiamo analizzare il funzionamento di questi farmaci attraverso l'analogia dell'aspirina essa può mitigare i sintomi di un dolore ma non necessariamente curare la causa scatenante in modo analogo gli antidepressivi possono aiutare sebbene un esame clinico non riveli uno squilibrio chimico non ci sono esami del sangue per accertare se una deficienza chimica sia la causa della depressione questo ti dimostra la serietà della persona cioè lui dice ma andiamo non a curare gli effetti andiamo a capire qual è la causa e il Vangelo ci aiuta a scendere più nel profondo dai sintomi scende giù fino alla causa e cura la causa che è il cuore umano assolutamente che è il cuore umano ci sono dei bei versetti e ci avviciniamo alla conclusione perché non vogliamo stancare nessuno l'autore parla di un altro grande uomo della Bibbia l'apostolo Paolo l'apostolo Paolo che si è trovato spesse volte ad affrontare e queste sono testimonianze bibliche che ci parlano di come si viene fuori dalle tenebre che c'è cioè una via di uscita innanzitutto andiamo a capire qual è il problema da dove qual è l'elemento scatenante e quindi l'abbiamo detto all'inizio brevissimamente lo ripetiamo il cuore umano c'è questa via di uscita Paolo nelle sue prove nelle sue difficoltà addita a Gesù colui che ha simpatizzato è uno che ha sofferto dice lo scrittore degli ebrei come noi e io direi più di noi e perciò egli è nella condizione di poter simpatizzare solidarizzare cioè capirci perché scrive il profeta egli ha portato su di sé le nostre malattie le nostre le nostre mancanze prima di tutto quello che la gente ha tanto paura di toccare il problema peccato cioè è esploso nel cuore dell'uomo qualcosa di devastante che ha sfasciato mente cuori vite famiglie eccetera 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 Gesù dice il profeta Isaia è venuto a fasciare i cuori rotti egli non è venuto a tritare la canna rotta ma anzi è venuto a fasciarla e non è venuto a spegnere il lucignolo fumante usa sempre questa metafora bellissima il profeta Isaia ma a riaccendere una speranza quello che sembrava quasi quasi per spegnersi invece il Signore Gesù lo lo ravviva c'è un'espressione con questa concludiamo davvero a meno che non abbiate voi qualcosa da dire ma ho sentito molto vicino a me questi versetti che credo siano di incoraggiamento per tutti coloro che sono qui presenti che ci ascoltano per la radio e ci seguono via facebook il salmista dice nel salmo 34 ho cercato il Signore ed egli mi ha risposto mi ha liberato da tutto ciò che mi incuteva terrore i giusti gridano e il Signore li ascolta e li libera da tutte le loro disgrazie il Signore è vicino a quelli che hanno il cuore afflitto salva gli umili di spirito molte sono le afflizioni del giusto ma il Signore lo libera da tutte quindi l'invito di questa sera è quello di rivolgersi a Dio amè noi citiamo spesso un verso che credo che è quello che stavi citando tu beh prego provate e vedrete quanto il Signore è buono non abbiamo la pretesa di offrire delle delle pozioni magiche di offrire delle formule che sono inalterabili abbiamo semplicemente l'onore di predicare il Vangelo e di condividere con voi ciò che il Signore ha fatto innanzitutto nella nostra vita e ciò che il Signore condivide con ogni uomo attraverso il Vangelo e altro non possiamo fare che dire provate e vedrete voi stessi quanto il Signore è buono naturalmente vi invitiamo a rimanere con noi più avanti avremo un altro servizio di culto leggeremo il Vangelo parleremo ancora di Gesù e se volete continuare a sostenerci in quest'opera in questa attività in fondo ci sono dei testi che mettiamo a vostra disposizione a favore di quanti ci seguono da casa vuoi ricordare come poter anche acquistare questi libri quindi magari il sito internet pagine facebook contatti in genere ma possono i nostri ascoltatori possono visitare il sito adimedia.it semplicemente www.adimedia.it e troverete come sono qui anche sul nostro sito in particolare fuga dalla paura sono dei prezzi che ci aiutano sì e no a coprire le spese che affrontiamo per la stampa per il lavoro che svolgiamo perché riteniamo che questa non sia un affare di business e di mercato ma è il desiderio di poter raggiungere quanti hanno bisogno dell'evangelo con dei libri che siano bibliocentrici per questo biblia per questo gli incontri letterari evangelici andate in fondo prendetevi una vostra copia anche di testi che abbiamo presentato ieri grazie a tutti grazie a radio evangelo buon seme grazie a voi qui presenti dio vi benedica noi ringraziamo il pastore giorgio botturi per questo tempo che ci ha dedicato ringraziamo il direttore di radio evangelo buon seme il pastore antonino barbera che ci ha concesso di essere qui oggi e anche il responsabile tecnico giovanni romano che ha organizzato tutto quello che sta dietro alla radio quindi quanti state ascoltando e tutti gli altri collaboratori che si prestano ogni giorno affinché questo servizio possa andare avanti per la diffusione dell'evangelo io voglio dire che non presentiamo una religione né un movimento né un proclama di qualsiasi genere ma presentiamo semplicemente ciò che Dio ha fatto nelle nostre vite e lo condividiamo con chi ci sta ascoltando Dio vi benedica pace pace a tutti pace grazie Biblia incontri letterari evangelici a cura di Adi Media